Il conflitto in Ucraina ha ripercussioni anche sulle tavole e le tasche dei padovani e dei veneti. A lanciare l'allarme gli artigiani della CNA, la Russia rappresenta circa il 20% dell'export globale di grano tenero, l'Ucraina il 10% e il 15% del mais, ma gli aumenti dei prezzi si erano registrati già da due anni. Tra aprile 2020 e dicembre 2021 il prezzo del grano era aumentato dell'80%. L'invasione russa ha creato però dell'instabilità nel mercato internazionale, basti pensare che 4,5 milioni di tonnellate di grano sono fermi nei porti ucraini. L'Italia importa circa il 65% di grano tenero per la panificazione e circa il 35% di grano duro per la produzione di pasta. Anche metà del mais necessario per l'allevamento di bestiame arriva dall'estero. Lo scenario internazionale sta cambiando completamente la filiera dell'agroalimentare. Da questo punto di vista è necessario aumentare la produzione all'interno del contesto europeo per far fronte alle difficoltà di importazioni che in questo momento stiamo subendo. Contemporaneamente tutte le specificità del made in Italy a partire dalle produzioni DOP e IGP vanno tutelate in un'ottica di filiera.